Benvenuti, cari followers, in questo nuovo video, in cui vi informeremo sulle previsioni meteo più importanti per l'Italia per domani e per i prossimi tre giorni, fino al 21 ottobre 2023, dove monitoriamo per voi l'ingresso di un temporale molto forte in Italia, con rischio di forti alluvioni al nord e al centro, e anche in alcune zone del sud. Ma prima di iniziare, non dimenticare di incoraggiarci premendo il pulsante. Mi piace per questo video, poiché stiamo lavorando molto duramente per raccogliere queste informazioni per te. Quindi, per domani, mercoledì, 18 ottobre 2023, forti piogge su varie zone della Liguria, Emilia-Romagna, Toscana-Marche e Abruzzo settentrionale. Giovedì, 19 ottobre, questi temporali si intensificheranno su Liguria, Emilia-Romagna, Toscana-Marche, Nord-Abruzzo, fino al Veneto, per poi in serata piogge gradualmente raggiungere Piemonte-Valle, da Aosta, Lombardia, Trento, Alto Adige, Friuli, Venezia-Giulia. Poi, a partire dalla mattina di venerdì 20 ottobre 2023, un altro temporale più potente entrerà in Italia, portando piogge molto forti e rischio di grandi alluvioni, con improvvise grandinate forti, venti forti e tempo molto brutto. Questo temporale inizierà al nord per poi confluire al centro con piogge temporalesche in Liguria, Piemonte, Valle d'Aosta, Lombardia, Trento, Alto Adige, Friuli, Venezia, Giulia, Veneto, Emilia, Romagna, Toscana, Marche, Umbria, Abruzzo, Sardegna. E poi, nella tarda ora della notte di venerdì fino a sabato mattina, questo temporale raggiungerà il Lazio-Molise, la Campania, la Calabria, la Basilicata, la Puglia. Il temporale sarà quindi molto forte, soprattutto venerdì 20 ottobre e fino a sabato 21 ottobre. Con piogge molto abbondanti e un clima invernale per eccellenza, invitiamo quindi tutti i cittadini alla massima attenzione. Cercheremo di comunicarvi in seguito eventuali altre novità importanti e, alla fine, che possiate rimanere in buona salute.